ahahahahahahahah non è il naso ahiaaah 100.000 mi piace riempio un secchio di questo io rovescio un test e ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e oggi a grandissima richiesta buon natale innanzitutto siamo qui per farvi vedere i regali che abbiamo ricevuto a natale sia io sia Violetta che ho ricevuto regali molto E ragazzi questo video ce l'avete richiesto in tantissimi su Instagram A proposito seguiteci su Instagram Il vostro caro Dexter è Violetta23 Siamo pronti a farvi vedere che abbiamo ricevuto E fateci sapere che cosa avete ricevuto voi Qua sotto nei commenti E 40.000 mi piace Prossimo video insieme a Violetta Anzi facciamo un bel fuck you time E scrivete anche le domande quindi Un bel vlog anzi dai Un vlog dai spolliciate Prossimo vlog insieme a Violetta di Natale Vlogmas Sentite i termini da Makeup Party Insurrection vlog Siamo finalmente pronti a mostrarvi questo Io non glielo ho regalato Cos'è? Non ve lo dico Per scoprirlo dovete vedere il video di ieri Che sicuramente non l'avete visto Perché era Natale stavate tutti a mangiare A giocare a tombo A vincere i soldi Io non ho vinto mai niente Io ho fatto solo ambo e tombolino Io manco quelli Io ho sprecato i soldi Comunque il video di ieri con Santa Giorgio Perché questo qua me l'ha regalato Santa Giorgio E nel video scoprirete che cos'è Lo trovate qua sotto in descrizione Oppure cliccando con la faccia di Violetta E niente non perdetevi perché far veramente ridere È un funny moments Cominciamo con i miei regali? Sì Bene cominciamo da questo Che è l'ultimo che compare Con delle babucce Delle pentafoline Calzini Non lo so Sono dei guanti in realtà Hai visto guanti? Ma no sono calzini Antiscivolo Poi ho ricevuto questo bellissimo quadro Fatto a mano Wow Da sua cugina Ha fatto tutte queste ciambelline Ti piace mangiare quindi? Io ho tunei dolci Mi piace mangiare Allora ha pensato bene di farmi questo bel disegno Dai fate qualcosa anche Ecco Ragazzi questo è un braccialetto Argento guardate che bello Mi l'ha regalato mia zia Tac Wow Il primo braccialetto di Dexter Perché lo sa che io devo diventare una vera fashion blogger E quindi questo è un braccialetto che si addice di più a me Grazie Andiamo avanti Poi ho ricevuto questo bellissimo Pigiamagolf felpa morbidissima Hai ricevuto una macchina? Una macchina pigiama? Perché una maglia? Pigiamagolf Poi ho ricevuto queste tre candeline Sono tre portacandeline matalizi Bellissimi E dentro ci sono tre candeline diverse Della Yankee Candle Oltre ad essere dei portacandelle sono anche dei cappelli per il cane Guardate come vi dicevo Eccolo qua Sono anche dei cappelli per il cane Sembra Aladin Aladin Bombo Le notti d'Oriente E a proposito di Bombo Anche Bombo ha avuto il suo regalo di Natale Che parte di una fan Di una fan a Catania Quindi grazie E di Bombo Aspetta vai E non l'ha preso il tuo Bravo Allora poi andiamo avanti Ho ricevuto questo pigiama Questo Tutti dormono Perché dormono tutti? Perché sono in letargo Ah è vero No poi Ma poi tutto te Scusami E io Allora Violetta ha ricevuto regali No Ma siccome io ne ho di più Un po' più io E poi qualcuno te Visto che ce ne sono pochi Ho ricevuto questo braccialetto Del WWF Oh finalmente Perché regalo mio E tac Ecco qua Vi è piaciuta la mia ripresa da fashionblogger Lo di sì Lasciate il pollicione in su Continuiamo con i miei regali Perché Violetta basta Ha rotto anche le palle E voilà Oltre che la ripresa da fashionblogger Mi regalano anche cose Fashionblogger Vedete questo è un beauty Oh scusami La fashionblogger sono io Quindi lo dico io È un beauty E dentro cosa c'è? Ci stanno un sacco di confezioni di profumi E questo è un dopo barba Vedi È un eodorante È un lucida labbra Ocucuo Grosso perché C'è per le labbra È lucida labbra Vedete Eccolo qua E abbiamo una lacca per i capelli O anche della panna Eccolo qua È della panna spray Sa di sapone Però Perché le fashionblogger Sono tutte magre Quindi La panna spray È il gusto di sapone Così non la mangiano E non ingrassano E per questo Abbiamo un balsamo dopo barba Ma io non ho la barba Perché sono una fashionblogger Quindi probabilmente Sarà per i peli Della fre Dai su Veloce Che Ce l'ho nel naso Buona la panna Delle fashionblogger Aia Ecco 100.000 mi piace Riempio un secchio Di questo E io rovescio un test 100.000 mi piace Spolliciate Lo faccio Prego Bene Sì Dopo questa Io me ne vado Bene Io mi pio tutti i tuoi regali Soprattutto quello che ti ho regalato io Vogliamo far vedere il tuo regalo Dai Fallo vedere Aspettate Qui ci vuole la canzone Eccola Io c'ho l'iPhone 6 iPhone 6s Oh big one Plus La cover però non mi l'hai regalata Costa più a cover che il telefono Ecco perché Fallo vedere però Eh no non c'è la scheda perché non l'abbiamo ancora attivata Perché c'erano più i soffi di disordi Color oro rozza Fallo vedere Che bello Questa novità La fashionblogger E con questa ci facciamo No Hello It's me Patele anche qui E quindi Niente Questo è il regalo di Violetta Ci faremo tanti vlog Ve lo promettiamo Eh ho dovuto comprare il telefono nuovo Perché questo Guardate Guardate Chi secondo voi Chi è che l'ha rotto questo telefono Io a lui Secondo voi che cosa è successo A questo telefono L'ho rotto io Però anche il video ragazzi Non so se farlo vedere Perché dura poco Però Violetta si incazza tanto 100.000 mi piace Ve lo esco Il video eh Quindi Violetta Ha avuto il suo iPhone 6s Tu hai fatto vedere Il regalo che ti ho fatto io Io faccio vedere il regalo Che mi hai fatto te Finalmente Finalmente Ce li abbiamo Ce li abbiamo Eccoci qua Finalmente non dovrà più usare Quelli che gli regalate No voi continuate a regalarmi Perché in realtà Li userò Ma come adesso C'è questi nuovi Ce li ho regalati io Grazie Violetta Grazie Poi passiamo con Una palla Questa si appende All'albero di Natale Ma che stai dicendo Si appende alla macchina In realtà Questa è una schiuma Una schiuma Davvero Ah è una schiuma Aspetta me la metto Come dopo barba In realtà Questa è una spugna Ah ok Poi Ho ricevuto Questi prodotti Di bellezza Guardate che bello Questi sono miei Questa è un'utilizzante mani E questa è una crema mani Tutto per le mani Tutto per le mani Infatti vedete Che belle mani Violetta C'è lo smalto Poi Ecco vedete Questo è un altro appendino Per l'albero Con Snoopy La sua casetta E dentro c'è Sarnei mutande E dentro c'è una delle mutande Che però non posso farvi vedere Perché sono hot Ma non è vero Sono mutande normalissime Quando facciamo la prossima Body challenge Ti metti queste Poi Guardate che bello Questo leoncino Non è un semplice peluche Questo Dovete sapere che è questo Questo è innanzitutto Che ti ha regalato Tu Ecco Perché mettiamo le cose in criaro Non dici niente Questo è un leone Con dei semi di lavanda dentro E Se lo metti al porno Si scalda Ma va Ma va Se gli passi sopra la benzina E poi gli dai fuoco Brucia Ma no Questo serve È tipo scaldino Tu lo metti nel forno A microondola Nel forno normale Dopo 10 minuti Lo prendi Ti bruci Esatto Ti fa caldo E di estate Lo puoi mettere Nella Nel freezer Così diventa fresco E te lo tieni imbracciato Anch'io ho ricevuto un peluche Dalle mie cugine Che peluche è? Però è un peluche particolare Perché ecco qui È un giaguarino Wow Perché io in realtà Ho adottato un giaguaro Wow Quindi ho un mio Giaguaro personale E lo mando contro gli haters Quindi non mettete dislike O vi mando il giaguaro Quindi non fatemi incazzare Se no vi lanciamo il leone E il giaguaro Questo era solo un assaggio Però se ho delle mie cugine Mi hanno anche regalato Anzi Mia cugina Francesca Quella stessa che ha fatto Il quadro Dei dolcetti A Violetta Mi ha regalato Questo bellissimo quadro Lo c'è scritto Proprio fieri di te Abbiamo degli artisti In famiglia Vedete? Sono sicuramente Un artista Nato Ne sparare le cazzate Dai poi che altro hai ricevuto tu? Io ho ricevuto questo Questo che cos'è? È una torcia Powerbank Lo sapete che è Powerbank Powerbank Bravo Sono Mattebise Sbattimelo in faccia Bravo Bene andiamo avanti Un bel pacchettino E dentro ci sono un paio di orecchini A forma di stella Non so se riuscite a vederli Poi io ho ricevuto questa bella camicia Per fare gli eventi Eccolo qua Perché per gli eventi? E ora vi faccio vedere E niente figlia E figlia Ok poi ho ricevuto I soldi! No questa smart No io ho ricevuto i soldi Che comprende due notti D'evasione Con due cene Ma ti hanno arrestato? Ma perché? Perché devi fare due notti d'evasione Hello Sì vado Ma lo sai perché ti hanno arrestato? Perché mi hai rapito il cuore Comunque sono hotel da 3-4 stelle Slezzate nella guida Michelin Insomma se magna Regà c'è Carlo Cracco Che ci fa Che ci fa E faremo il vlog a cena con Carlo Cracco Va bene Anche Violetta fa i regali in grande Infatti mi ha regalato un paio di scarpe Di una taglia in più Ma non è vero Eccoli qua Guardate che belle vans Sono in pelle e in camoscio Eccole qua Le mie vans Da fashion blog Praticamente mi hanno fatto tutti i regali Da vera fashion blog Infatti su Instagram Trovate tutte le foto Outfit Mi raccomando mettete mi piace Così festeggiamo Mezzo milione Mezzo milione 500.000 iscritti su Instagram Yeah E il 500.000 iscritto a Instagram Riceverà un iPhone 6s Come quello di Violetta Ritagliato 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 Autografato Scatola Scatola Quindi questi erano i nostri regali di Natale Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando 100.000 mi piace Facciamo quella cosa là Vabbè avete capito Scriveteci Cosa avete ricevuto qua sotto Voi nei commenti Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Ma io anche questo qua ho ricevuto Questo papagliancino Color Tiffany Ho ricevuto più vestiti e meno Va bene Noi ci vediamo prestissimo A un nuovo video Vi mandiamo un abbraccione Un salutone E ci ricciao gente Ciao E ancora una volta Buon Natale